Mister Perrella, innanzitutto le chiedo cosa è successo. Io credo che la squadra oggi non ha rispettato quelle che erano le sue idee di partita. L'Ischia è stata padrona del campo per gran parte della gara. C'è forse qualche rimpianto per quella parata di gemito sul tiro di battaglia. Insomma, lei che partita ha visto? Buon pomeriggio a tutti. No, c'è poco da dire. L'Ischia è più forte, ha meritato la vittoria, ha fatto una grandissima partita. Stanno facendo un percorso molto importante e quando si trova una squadra che è più forte bisogna fare un passo indietro e fare i complimenti al lavoro che stanno svolgendo. Come continua il vostro percorso? Sono due battute dal resto perché ci metto anche quella con l'Albanova, pesanti, però insomma il campionato e ancora, ci sono ancora sette partite da giocare. Sulla carta il Casoria ha un calendario anche più agevole delle altre concorrenti. Dove può arrivare questa squadra e come deve fare per ripartire dopo questa doppia delusione? Siamo arrivati a un punto dall'Ischia qualche settimana fa, poi a meno quattro oggi e a meno sette alla fine della gara. Questa è una squadra molto giovane, l'ho detto a qualche suo collega, è una squadra giovane, molti sono alla prima o alla seconda esperienza. Io sarò ripetitivo ma devo dire le cose come stanno, il budget è diverso rispetto alle altre squadre e quindi quando poi affrontiamo squadre del genere e partite del genere magari gli avversari sono più pronti, sono più preparati perché queste gare le hanno già affrontate in passato. Noi ripeto, siamo una squadra giovane che ci siamo presentati a questa gara al massimo, abbiamo fatto il massimo secondo me, si poteva fare qualcosina in più sempre. Però non dobbiamo dimenticare tutto quello che hanno fatto questi ragazzi, hanno raccolto fino ad ora 55 punti, 18 vittorie, 56 gol fatti, un grande percorso, non sono le due sconfitte che poi devono rallentare o altro. Allora il percorso continua e continua con il pomigliano? Sicuramente sono sette partite, sette finali, sette gare importanti, sono tutte difficili e complicate e le dobbiamo affrontare con il massimo della determinazione e cattiveria. Sicuramente dobbiamo metterci in qualcosa in più in questo momento di difficoltà perché io dico sempre che quando si vince le cose vanno bene, va tutto bene, ma bisogna avere anche quella capacità di saper incassare i colpi e quella forza mentale di reagire il più in fretta possibile. Sono sette partite, siamo dentro, dentro i play-off, ce li giochiamo fino alla fine a testa alta cercando di non commettere alcuni errori come li abbiamo commessi oggi. Sul primo gol sicuramente si poteva fare un qualcosa in più sotto l'aspetto della cattiveria e della determinazione. Sul secondo e sul terzo li vorrei anche rivedere, sono curioso di rivederli perché secondo me forse qualche posizione era irregolare, però siamo qui, li riguardiamo con calma, con molta tranquillità, fermo restando che l'Ischi ha meritato di vincere e ha fatto una grande prestazione.